e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono chiuder e ragazzi sfide della settimana numero 5 di fortnite bisogna cercare la lettera n oramai la terz'ultima lettera per completare la parola fortnite e completare quindi la sfida dove si trova la lettera semplicissimo siamo vicino a siepi d'agrifoglio ma in realtà un po più in basso esattamente nel bunker militare che c'è proprio un pochettino più in giù e quindi basta semplicemente raggiungerlo come state vedendo in questo momento avete capito benissimo ovviamente dove siamo una volta raggiunto questo bunker basta solo rimanere sulla sinistra salire queste scale e la n apparirà esattamente qua sopra io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live ciao ciao Grazie per la visione!